Perché hanno fatto forza sull'intelaiatura e quindi poi hanno buttato giù la porta che ha buttato in merita di me. Praticamente mi hanno detto di recarmi sul posto dove c'era un agente che mi stava aspettando perché avevano forzato, l'avevano rubato. E quando sono arrivata c'era la porta per terra, come da foto che ha fatto il suo collega, la cassa aperta, mancavano gli spiccioli che lasciamo in cassa. Il negozio era perfetto, non l'hanno portato via il cellulare, non hanno distrutto niente. Il danno è stato quello della porta che lei ora vede riposizionata ma che andrà sostituita. Voi avevate un servizio comunque di vigilanza? Sì, sì. Con il maltempo dicono quelli della polizia che ovviamente girano liberi di rubare. Come si può immaginare, queste cose si sanno quando capitano a noi, allora tutti raccontano che è successo di qua di là. Però ho sentito, tempo fa la mia collega hanno rotto il vetro del negozio a fianco, ora mi hanno detto che un altro negozio un po' di tempo fa ha avuto dei danni perché hanno tentato di entrare, però più di questo non le so dire. Questo è un fenomeno, come dire, una spia di un malessere anche questo, no? Beh, c'è sempre stato. Una volta negli anni 70 nei vicoli non ci entravamo proprio nemmeno in via Luccoli perché rubavano le catenine, le borse. Grazie. 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 Grazie.